...informazione, no? Allora, uno dei problemi che c'ha la campagna, non lo Stato, ma come anche la regione, si chiama QPG, perché chi, facciamolo qua, è un ufficiale di polizia giudiziale. Per esempio, in tutte le altre regioni d'Italia, i tecnici dell'ARPA hanno la qualifica di QPG, che significa che possono entrare dove succede qualche casino, mentre qua no. Allora, qua, se chiudono, io non c'ho la campagna regionale, naturalmente si sono fatti tutti e tutti. No, questa è una cosa importante, perché quando c'è un fuoco, sapete cosa succede? Succede che il cittadino vede il fuoco, telefona a quello dell'ARPA, quello dell'ARPA per entrare nel corso, se c'è il fuoco, dovete telefonare alla polizia, ai vigili, ai carabinieri, eccetera, e per fare il tempo, andare alle palle apre, quelle che non c'è del fuoco. Va bene, questa è una piccolezza, se dovete, però, è una cosa che dovete sapere, perché se i tecnici che fanno la prevenzione delle atleti ambientali non hanno la possibilità di andare a controllare, che cavo di protezione attenzione, non vogliono, ma non ce l'hanno alla polizia. Non vogliono dirla, allora chiariamoci bene. Ma se c'è stata la parola che finiscono la demografia, non lo so, non lo so, non lo so. Ho capito, ma questi qui dipendono dalla regione, allora se la regione decide che i tecnici devono avere la polizia di QPG, c'è l'anno per fine della scopria, se lo possiamo fare un problema, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Quello che poi volevo, su cui voglio puntare...